La griglia White adesso, vogliamo sentire, fate un nuovo video della Sabina, forza! 30 secondi al via! La griglia White, la seconda partenza della Colli della Sabina, 15 secondi al via, anche voi quest'oggi scriverete un'altra pagina di storia! Signore e signori, siamo pronti per partire in questo viaggio nella terra Sabina! Le mani al cielo tutti, tutti, tutti! 10, 9, 8!